Un nuovo disastro mette in luce la vulnerabilità del Guatemala di fronte alle catastrofi naturali. Una frana provocata da forti piogge ha causato la morte di almeno nove persone in una zona povera di Villanueva, a sud della capitale. Il comune ha trasformato una scuola in centro di accoglienza per gli sfollati e ha ordinato l'evacuazione di un centinaio di abitazioni, dove vivono circa 500 persone. Nella città sono stati dichiarati lo stato di emergenza e tre giorni di lutto. Per l'ONU il Guatemala è fra i dieci paesi al mondo più esposti agli effetti nefasti del cambiamento climatico. L'anno scorso una frana aveva causato 280 morti in un comune a sud-est della capitale Guatemala.